In questo numero di Agri-Food Magazine raddoppiano le risorse del PNRR. In Italia si consumano sempre meno frutta, verdura e legumi. Allarme nel piatto, la blacklist dei cibi più contaminati. I fondi destinati al comparto agroalimentare italiano previsti dal PNRR sono più che raddoppiati in seguito al Via Libera da parte di Bruxelles alle modifiche da parte del Governo. La dotazione finanziaria passa da 3,68 a 6,53 miliardi. A questi vanno aggiunte le risorse del PNRR per un totale di circa 8 miliardi. In particolare è stato riconosciuto un ulteriore finanziamento di oltre 2 miliardi per i contratti di filiera agroalimentare, pesca e foreste. Da misura Parco Agrissolare, che ha registrato un overbooking di domande, è stata particolarmente apprezzata dalla Commissione europea, tanto da essere implementata con altri 850 milioni. Un caso virtuoso di incremento dell'obiettivo iniziale, fissato con il PNRR in termini di potenza installata da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, si è detto molto soddisfatto di quanto ottenuto da questo complesso negoziato, che conferma la concretezza del lavoro per far tornare centrali l'agricoltura, la pesca, il settore forestale e sostenere gli agricoltori. In Italia si consumano poca frutta, verdura e legumi. A dirlo è l'indagine sui consumi alimentari degli italiani realizzata dal CREA, Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione. La quantità media di frutta consumata ogni giorno è di 166 grammi, verdura 147 e legumi 9. Secondo l'indagine, l'apporto energetico medio della popolazione dai 3 ai 74 anni è di 1933 calorie al giorno, derivanti per il 15% da proteine, per il 42% da carboidrati e per il 34% dai grassi. Il CREA, con il suo Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, realizza da 40 anni, con cadenza decennale, indagini nazionali sui consumi alimentari, che consentono di quantificare il consumo giornaliero di tutti gli alimenti e le bevande assunte dal singolo individuo. Si tratta di dati che comprendono anche analisi delle caratteristiche nutrizionali e del rapporto tra alimentazione, salute e stile di vita. I dati consentono la stima degli impatti ambientali della dieta e del rischio di assunzione di sostanze indesiderate e vengono utilizzati per la formulazione delle linee guida per una sana alimentazione italiana e dei livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana. Dai fichi turchi ai pistacchi iraniani, dai lici cinesi alle spezie indiane. È questa la blacklist dei cibi più pericolosi che rischiano di finire nel carrello degli italiani alla ricerca del risparmio a tavola. A lanciare l'allarme è una nuova analisi della Coldiretti basata sulle elaborazioni del sistema di allerta rapido. In Italia, sottolinea la Coldiretti, oltre 8 prodotti su 10 pericolosi per la sicurezza alimentare provengono dall'estero. I pericoli maggiori per la salute dei consumatori italiani sono venuti dai fichi secchi della Turchia per le aflatossine, dal pesce spagnolo per l'alto contenuto di mercurio, dalla carne di pollo polacca contaminata da salmonella e poi da cozze e vongole spagnole, sempre con salmonella, insieme al batterio delle schierichiacoli. Molto pericolosi anche i pistacchi da Turchia, Iran e anche Stati Uniti per l'elevato contenuto di aflatossine cancerogene. In caso di allarme alimentare, le maggiori preoccupazioni sono proprio determinate dalla difficoltà di rintracciare rapidamente i prodotti a rischio per toglierli dal commercio, generando un calo di fiducia. È necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, afferma la Coldiretti, garantendo che dietro gli alimenti italiani e stranieri in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l'ambiente, il lavoro e la salute. Nasce il servizio civile agricolo. Il Ministero per lo Sport e i giovani e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste hanno firmato il protocollo d'intesa per il servizio civile agricolo che si aggiunge ai bandi tematici già avviati in ambito digitale e ambientale e che ha l'obiettivo di coinvolgere nel primo anno mille giovani grazie ad un investimento di circa 7 milioni di euro messi a disposizione dalle strutture dei due ministeri. Il protocollo punta a rafforzare il servizio civile come strumento di promozione e sviluppo dell'agricoltura, in particolare quella sociale, offrendo ai giovani la possibilità di acquisire competenze trasversali che aumentino le prospettive di occupabilità in ambito agricolo e agroalimentare promuovendo e potenziando la conoscenza delle pratiche della cultura contadina in particolare nelle aree interne della nazione valorizzando il welfare di prossimità al fine di potenziare l'erogazione dei servizi primari nel settore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS